Buongiorno, colazione nella suite imperiale, siamo esattamente nei bagni del campeggio, perché fa un freddo fuori nella tenda della Madonna e degli olandesi ieri sera ci sono commossi al vederci alla merce delle intemperie e ci hanno portato la colazione, non ci credo, guardate, caffè, tè, acqua bollente che è un po' che non la beviamo, marmellate, cosa c'è qua dentro? Aspetta, appoggia, no, non ci credo, fragole, pane marmellata, formaggio, no, non ci credo, non è possibile, cioè, facciamo veramente pena la gente, o pietà, facciamo, o pietà o pena, poi te hai vestito così, ma come non puoi ottenere cibo? Lui mi ha detto, solo per te, solo per il leone, vostro breakfast, io dico sì, perché il cibo era la tenda, ah, era dentro la tenda? Sì, la tenda, ma non questo, il nostro, io dico, ah, sì, breakfast qui lo guardamo, no, no, breakfast nostro, non ci credo, facciamo veramente così pena, porca, vabbè, andiamo a mangiare qui, no? Mangiamo qui nel bagno, nel suite del campeggio, di dove cazzo si chiama qua, al lago di Cavazzo, vabbè, buon appetito, da un cuoco da strada succede anche questo. Vabbè.